Provincia di Como verso le elezioni del nuovo consiglio provinciale si vota domenica 29 settembre in un unico turno dalle 8 alle 20 nel seggio elettorale della sede della provincia di Como in via Borgovico e nel seggio distaccato del comune di Menaggio in via Lusardi. Ultima settimana di sottoscrizioni per gli amministratori locali perché le candidature dovranno essere presentate all'ufficio elettorale domenica 8 settembre dalle 8 alle 20 e lunedì 9 settembre in questo caso dalle 8 alle 12. Intanto a scendere in campo per le elezioni provinciali come annunciato nei giorni scorsi è il sindaco di Como Alessandro Rapinese che ha deciso di tentare la scalata a Villa Saporiti. Sto registrando una sempre maggiore necessità di una lista slegata dalle attuali logiche che possa rappresentare pienamente la provincia spiega il primo cittadino di Como. 90 in totale le sottoscrizioni di sindaci e consiglieri comunali che la lista deve raccogliere per poter essere depositata a inizio settembre. Al momento siamo arrivati ad una settantina. Il 5 settembre andremo a ritirare i moduli nei comuni e avremo il quadro della situazione conclude Rapinese. Il consiglio provinciale eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali della provincia è dura in carica due anni a votare come detto sindaci e consiglieri comunali attraverso un sistema di voto ponderato in cui si tiene conto della popolazione di ciascun comune.